I risparmi di una vita sono andati in fumo per 40.000 piccoli azionisti di banca Marche che dopo aver visto azzerarsi il valore delle azioni si stanno rassegnando ad una crudele realtà. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto per il salvataggio di quattro banche in crisi, altri istituti di credito più grandi, intesa Unicredit e Ubi, anticipano i soldi necessari, circa 3 miliardi e 600 mila euro per un'operazione che ha portato alla nascita di nuova banca delle Marche ma che ha indotto altresì la preoccupazione di migliaia di soci. Sono infuriati, delusi e si sentono presi in giro per ciò che è accaduto. C'è chi ha visto liquefarsi il denaro ereditato dai familiari, chi ha perso da un giorno all'altro 100-200 mila euro, anziani, genitori che pensavano di poter costruire una casa, un futuro ai propri figli e che ora vedono vanificati tutti gli sforzi e i sacrifici di una vita. In ballo ci sono 500 milioni di euro delle fondazioni, 400 milioni di obbligazioni subordinate ed altrettanti 400 di piccoli azionisti. In tutto questo anche le fondazioni proprietarie, Iesi, Pesaro, Macerata e Fano, vedono svanire gran parte del loro patrimonio. Di questo argomento se n'è parlato in Consiglio regionale con un vivace botte risposte in aula tra Ceriscioli e il capogruppo di area popolare Mirko Carloni. Da una parte il Presidente ha espresso soddisfazione per l'esito dell'operazione e ha ricordato come Banca Marche sia un'impresa e che di conseguenza azioni e obbligazioni subordinate siano inevitabilmente esposte al rischio d'impresa. Carloni invece ha sottolineato la sua forte preoccupazione. I marchigiani, ha detto, perdono un miliardo di euro. Io ho ricordato in aula che questa è una vicenda che diventa una seconda crisi per i marchigiani dopo quella che ha colpito tutta l'Italia e tutto il mondo dal 2008. Come ho detto ieri non ho visto dei salvatori perché il fondo interbancario che doveva intervenire alla fine non lo ha fatto e invece in queste ore si rende sempre più drammatica la situazione e mi farò carico di qualche proposta nelle prossime ore per cercare almeno sulle fasce di reddito più basse, su coloro che hanno veramente perso tutto, che ci sia in qualche modo un aiuto. E non può passare semplicemente come è un problema di chi ha comprato le azioni. Questo è un problema che riguarda tutti noi, riguarda anche la politica perché questa scelta è la prima ma secondo me è anche un'anomalia perché a pochi giorni dalla scadenza di tante obbligazioni, quasi 400 milioni, si è, diciamo così, fatto una sorta di esproprio popolare a tante famiglie che in quello avevano le proprie risorse investite. Sull'epilogo della vicenda è intervenuta anche la parlamentare di sinistra italiana Lara Ricciatti che richiama il presidente della fondazione Fabio Tombari ad assumersi le proprie responsabilità per un patrimonio di 42 milioni di euro andato in fumo e sottratto, scrive in una nota, alle attività di utilità sociale, ambientale e culturale che dovrebbero costituire la mission dell'ente.